Sto viaggiando in compagnia della viaggiautrice inglese Emily Lowe e del suo libro guida Donne in difesa in Calabria, nel quale racconta il suo viaggio svoltosi nel 1859, a cui aggiungo il mio racconto di borghi e città toccati dal nostro viaggio. La carrozza era stata sostituita con una più solida, poiché stavamo per affrontare una zona collinare. A noi fu dato il coupé anteriore, con un armadietto che si apriva sul portabagagli e il corriere occupò quello posteriore. Una salita si ergeva di fronte. Guardammo a lungo la costa che scompariva. L'ultimo angolo della Trinacria ci sembrava un piccolo piede nel mare e non potevamo fare altro che mandare all'isola qualche saluto alla maniera inglese, dando baci alle dita della mano sinistra per posarli sul palmo della destra e soffiarli poi via con affetto verso ogni terra cui si voglia augurare del bene. Quindi la strada si inoltrò fra le montagne e il buio coprì ogni cosa. Si sta sporgendo fuori dalla carrozza per la paura, signora? No, don Raffaele, ma per impegnarmi di tutta la grandiosità del momento. Quando ho la mia spada, lei non deve temere di fare la fine di quella giovane signora che pochi anni fa fu rapita da una carrozza in viaggio, mentre il padre e i due fratelli venivano legati mani e piedi e della quale non si è saputo più nulla. Era ormai tempo che la luna venisse fuori e spuntò infatti dalle parti di Monteleone, risplendendo piena sulla marina di Pizzo, dove sbarcò Murat nel suo tentativo di riconquistare il regno dopo la caduta di Napoleone, con il risultato della sua esecuzione. Si dice che ci sia un partito a favore di suo figlio, soprattutto di emigranti, che sarebbero a favore di chiunque non sia oggi al governo. Ma chi abbia provato a incontrare e parlare con quel figlio non potrà certamente preferirlo a una persona che abbia ricevuto una qualche istruzione. No, l'Italia è degna di una più raffinata stirpe di sovrani. Pizzo, detto in calabrese Upizzo, è un comune della provincia di Bovalencia, i cui abitanti sono detti Napitini o Pizzitani. Il borgo è rinomato per la produzione del tartufo di Pizzo. È un borgo costiero, arroccato su di un promontorio al centro del golfo di Sant'Eufemia. Il suo territorio comprende una costa frastagliata, contraddistinta da spiagge sabbiose in alcuni tratti e da scogli in altri. Sulla costa nord-est, dalla pineta mediterranea fino alla rocca, si estendono quasi 9 chilometri di ampie spiagge sabbiose. A sud, dove si innalza il masso tufacio su cui nasce e si sviluppa Pizzo, la costa diventa rocciosa con numerose calette e zone ricche di scogli naturali, nonché diverse grotte, fra cui la Grotta Azzurra. Nella zona centrale c'è la spiaggia della Seggiola, piccolo fiordo al centro del masso tufacio su cui è arroccato l'abitato e su cui domina il castello aragonese, eretto nella seconda metà del 1400 da Ferrante d'Aragona. E poi c'è la marina. Oltre al castello Murat, due sono le attrazioni, come ho detto. Uno, il tartufo di Pizzo. L'altro, la chiesetta di piedi di grotta. La grotta contenente la chiesetta di piedi di grotta si trova a un chilometro e mezzo a nord del centro abitato, affacciata sul mare, appena fuori la cittadina, all'ingresso della stessa, sulla spiaggia ai piedi della chiesa di San Francesco di Paola. È scavata nel tufo e piena di gruppi scultori molto suggestivi, anch'essi scavati nel tufo, opera di Angelo e Alfonso Barone, posta nella spiaggia denominata Prangi, nella zona detta Centofontane, per l'esistenza ancora attuale di moltissime fonti di acqua dolce. La chiesa è contigua alla spiaggia ed essendo esposta a Ponente ne risulta molto suggestiva la visita pomeridiana, quando i raggi del sole penetrano nelle profondità della grotta, mettendo in risalto le colorazioni dei sali minerali che ricoprono le pareti. Taluni definiscono la visita alla chiesetta come un'esperienza mistica. La storia racconta che verso la fine del 1600 un veliero che navigava nel golfo di San Teofemia si trovò in mezzo ad una violenta tempesta. I marinai, tutti di Torre del Greco, fecero voto a Maria Santissima di Piedigrotta, il cui quadro si trovava nella cabina del comandante. Il voto era dirigere una cappella, una cappella votiva, nel punto dove avrebbero toccato terra in caso di salvezza. Fu così che la nave naufragò violentemente contro gli scogli e andò in pezzi, ma l'equipaggio si salvò e con esso il quadro della Madonna che venne ritrovato intatto sulla spiaggia. Così i marinai, fedeli alla promessa, scavarono nella roccia una buca e vi depositarono il quadro, ripromettendosi di tornare e realizzare la cappella votiva. Ma i pescatori locali, temendo che venisse rubato, presero il quadro e lo portarono in una grotta poco distante, edificando un piccolo altare. Fu così che, al seguito di un'altra burrasca, il mare invase la grotta e riportò il quadro in prossimità del punto dove era stato posizionato la prima volta. Allora i pescatori interpretarono come un segno tale emigrazione e decisero quindi di scavare meglio la prima grotta, realizzando anche una torre campanaria dove posero la campana della nave naufragata, datata 1632. In un documento del 1725 il canonico Ilario Tranquillo scrive e conferma che i fondatori della chiesa furono Giovanni Benedetto del Pizzo e Antonio, suo figlio, nell'anno 1675. All'interno un dipinto a forma circolare sul soffitto della navata centrale della chiesa rappresenta la tempesta di mare ed il veliero in evidente difficoltà, a conferma della storia. Tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900, poi, Angelo Barone, affascinato dai racconti dei pescatori, volle ampliare la grotta preesistente e durante la dura fase di scavo ebbe cura di lasciare alcuni blocchi di tufo che successivamente trasformò in statue. I lavori continuarono fino alla sua morte, nella primavera del 1915, ma vennero ripresi dal figlio, Alfonso Barone, pittore e fotografo, che volle continuare il lavoro del padre, ampliando ulteriormente la chiesa e realizzando altre statue, capitelli e bastoni lievi. Successivamente, nel 1969, lo scultore Giorgio Barone, figlio di Alfonso, di ritorno dal Canada, restaurò le statue distrutte da un episodio di vandalismo e scolpì anche due medaglioni raffiguranti Papa Giovanni XXIII e John Kennedy. La cittadina è diventata famosa in Italia e perfino all'estero anche per l'invenzione e produzione del gelato detto tartufo di pizzo, che vanta anche il primato di essere il primo gelato in Europa ad aver ricevuto la certificazione IGP, Indicazione Geografica Protetta. Si tratta di un gelato alla nocciola, che viene modellato nel palmo della mano, a forma di semisfera, con un cuore di cioccolato fondente, fuso e ricoperto da una spolverata di cacao amaro in polvere e zucchero. È stato inventato negli anni 1950, quasi certamente ispirandosi all'omonimo cioccolatino della tradizione torinese commercializzato dalla talmone, prodotto con gli stessi ingredienti e all'epoca popolarissimo. La produzione di questo dolce tipico è tradizionalmente ed obbligatoriamente artigianale, che nulla ha a che fare con vari tartufi industriali. La storia inizia quindi nel 1940 quando il maestro pasticciere Dante Veronelli rileva dal napitino Pasquale Iennarelli il gran bar Excelsior che si trova nella piazza centrale di Pizzo e che in seguito cambierà il nome in gelateria Dante, proprio in onore al suo primo proprietario. Per proseguire l'attività imprenditoriale si avvalse dalla collaborazione di un giovane pasticciere di Messina, Giuseppe de Maria, al secolo Don Pippo, che a seguito della morte del Veronelli rimase l'unico proprietario dell'esercizio. Il tartufo, nella sua forma attuale, nacque nel 1952, per puro caso. Avendo esaurito gli stampi e le forme per confezionare il gelato sfuso per rifornire gli invitati di un matrimonio, sovrappose nell'incavo della mano una porzione di gelato alla nocciola ad uno strato di gelato al cioccolato. Inserì quindi all'interno del cioccolato fuso ed avvolse il tutto in un foglio di carta alimentare da zucchero, dandole la forma tipica del tartufo. Il tutto fu poi messo a raffreddare. Poi, nel 1950, Giorgio e Gaetano di Giorgi, i quali avevano iniziato la loro carriera lavorativa presso la gelateria con il ruolo di camerieri, cominciando ad apprendere anche l'arte della produzione del gelato. 15 anni dopo, a seguito del pensionamento del maestro De Maria, Giorgio ne rilevò l'attività della gelateria Dante, mentre Gaetano proseguì la produzione del tartufo di pizzo, ma nel bar Ercole che sta di fronte, che acquisì insieme a suo fratello Antonio nel 1965. Come per molte altre località calabresi, nei secoli scorsi è stata cercata un'origine dell'antica Magna Grecia, come una fondazione dovuta a eroe eponimo. Così alcuni ripetono che pizzo sia stata fondata da Nepeto, ai tempi dell'antica Grecia, anche se di questo non c'è nessuna evidenza. Invece ci sono notizie certe dell'esistenza di un forte e di un borgo solo a partire dal 1300 e dell'esistenza di una comunità di monaci basiliani e restano tracce nel territorio di un'antica attività di pesca, specialmente di tonno. Il nome pizzo, significante becco d'uccello o punto sporgente, si attaglia perfettamente al promontorio tufaceo che sporge sul mare, elevandosi dalla foce del fiume Angitola fino alla spiaggia della Marina, dove fu collocato nel 1400 anche il piccolo forte aragonese, detto oggi Castello Murat, per i tragici eventi accaduti terminanti con la fucilazione di Murat il 13 ottobre 1815. La posizione privilegiata e il castello favorirono la crescita del borgo marinaro anche per la fortunata attività di pesca del tonno, infatti per secoli i tonni dominarono i mari raggiungendo a migliaia le spiagge del golfo di Santiofemia. Qui sorsero i famosi tonnocastelli di Bivona e di Pizzo. Proprio a fianco della chiesetta ai piedi grotta, nella spiaggia denominata Prangi, nella zona detta Centofontane, per l'esistenza ancora attuale di moltissime fonti di acqua dolce, i Rais e i loro uomini collocavano, fino agli anni 1970, la tonnara che veniva tenuta da cavi che partivano dalle rocce a terra sotto l'attuale chiesa di San Francesco di Paola. Anche nelle rocce a mare ci sono le tracce di questa attività, mentre è crollato l'arco di pietra che teneva il cavo, ma si notano piscine, scale, scavi, vaschette, irrorati dalle fonti di acqua dolce, oggi poco copiose, dove probabilmente si lavavano i tonni. Infine in mare appaiono sommersi cinque lunghi moli perpendicolari, nelle località Prangi, Centofontane e Grotta del Bue. Nella zona piedigrotta Prangi sono quasi crollate le Grotte del Bue, nella quale si pensa ci fosse ancora in epoca ottocentesca la foca monaca, detta Bue Marino, da cui il nome, e la Grotta del Saraceno, in zona Centofontane. La Grotta del Saraceno, immensa, oggi pericolante, è così chiamata perché per tradizione sarebbe stata usata dai pirati saraceni e barbareschi come deposito dei bottini e delle persone catturate nelle incursioni nei paesi dell'interno. Ciò è possibile considerando che quella zona del litorale era rimasta spopolata per secoli proprio a causa dell'incessante azione banditesca di pirati di diversa origine impegnati nella cattura di schiavi. Pizzo era famosa in epoca borbonica come località di arrivo della nave postale da Napoli, che approdava sulla spiaggia in quanto non aveva un porto vero e proprio e come posto di provenienza anche di pesci prelibati, in primis il tonno, fresco o sott'olio. Gli stessi re Borboni spesso facevano richiesta di tonno ed altri pesci per cui Pizzo andava famosa. I Borboni fecero anche qualche intervento per Pizzo e c'è traccia del viaggio del 1854 del re Ferdinando II che venne in Calabria con l'esercito napoletano in esercitazione armata e con il figlio Francesco, da lui chiamato Ciccillo. La storia racconta che una notte il re rimase impantanato alla foce del fiume Angitola e i pizzitani gli offrirono ospitalità in case signorili, ma il re volle accettare l'ospitalità del convento di San Francesco di Paola cui era devotissimo. Si tramanda che il convento fosse assolutamente impreparato a ricevere il re e che non avessero nemmeno l'acqua. Sul corso c'è la targa che ricorda l'evento. Il castello testimonia invece la presenza degli Aragonesi nel 1400 e proprio nel castello Aragonese fu tenuto prigioniero, come ho già detto, e in seguito condannato a morte Gioacchino Murà, re di Napoli, il cognato di Napoleone Bonaparte, che venne fucilato dopo alcuni giorni di prigionia e un processo fatto nella sala principale del castello e fu poi sepolto nella chiesa di San Giorgio, ma senza una vera e propria sepoltura buttato lì, tant'è vero che non se n'è mai riconosciuta la salma. Da allora il castello Aragonese venne denominato Castello Murà.